Giorgia Meloni, una fascista in Italia nel 2023. Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli d'Italia, è stata eletta presidente della Repubblica Italiana il 24 gennaio 2023. La sua elezione ha suscitato grande preoccupazione tra chi teme un ritorno del fascismo in Italia. Meloni è una figura controversa. È stata accusata di essere una fascista per le sue posizioni politiche, che includono una forte opposizione all'immigrazione, all'Unione Europea e ai diritti LGBTQ+. Le accuse di fascismo. Le accuse di fascismo contro Meloni si basano su una serie di fattori, tra cui la sua adesione al movimento di estrema destra Alleanza Nazionale, che ha le sue radici nel fascismo italiano. La sua opposizione all'immigrazione, che è vista da alcuni come un segno di xenofobia. La sua opposizione all'Unione Europea, che è vista da alcuni come un segno di anti-europeismo. La sua opposizione ai diritti LGBTQ+, che è vista da alcuni come un segno di omofobia. Le reazioni alla sua elezione. L'elezione di Meloni ha suscitato un'ondata di proteste in Italia. Migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare contro la sua elezione. Le proteste sono state guidate da gruppi di sinistra, ma hanno coinvolto anche persone di tutte le età e di tutte le estrazioni sociali. Il futuro dell'Italia. La presidenza di Meloni rappresenta un momento di svolta per l'Italia. È la prima volta che un leader di estrema destra viene eletto alla carica di presidente della Repubblica. È ancora troppo presto per dire cosa significherà la presidenza di Meloni per l'Italia. Tuttavia, è chiaro che il suo insediamento segna un cambiamento significativo nella politica italiana. La possibile crescita dell'estrema destra. L'elezione di Meloni potrebbe avere un impatto sull'intera Europa. La sua vittoria potrebbe incoraggiare l'estrema destra in altri paesi europei. È importante ricordare che l'estrema destra è un fenomeno complesso con radici in tutto il mondo. L'elezione di Meloni è solo un sintomo di un problema più ampio. Cosa possiamo fare? Per contrastare la crescita dell'estrema destra è necessario promuovere l'inclusione e la diversità. È importante ricordare che l'Italia è un paese multiculturale e che la diversità è una ricchezza. È anche importante educare le persone sui pericoli dell'estrema destra. L'estrema destra è un movimento pericoloso che minaccia la democrazia e i diritti umani. Dobbiamo tutti fare la nostra parte per costruire un futuro migliore per l'Italia e per l'Europa. Dobbiamo tutti fare la nostra parte. Dobbiamo tutti fare la nostra parte. Grazie.